La questione oggetto della seduta straordinaria di oggi è stato un tema centrale della scorsa legislatura e come giovane consigliere, io spero che abbiano fatto lo stesso anche gli altri, mi sono andato a rivedere diversi argomenti analizzati e quelli che mi hanno più colpito per importanza e per criticità a livello politico e tecnico sono la modifica della legge urbanistica. La delibera inerente il piano paesaggistico, la riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica con particolare attenzione al servizio idrico e al ciclo dei rifiuti, il PRIM, cioè il piano di indirizzo integrato, infrastrutture, mobilità e logistica e infine la delibera 61, la delibera 61 del 16 luglio del 2014. L'approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Mi preme questa premessa perché sono fermamente convinto che se non capiamo tutto l'iter, cioè come si è sviluppato all'interno del Consiglio regionale l'approvazione di questo piano territoriale, ci sfuggirebbero molte cose. Infatti la delibera 61 regola, fa da cornice, oserei dire una sorta di legge quadro all'interno della quale si dovrebbe inserire il progetto di ENAC in merito al potenziamento di Peretola. I punti cardini del PIT che hanno consentito l'approvazione della modifica dello stesso PIT sono sensetizzabili in quanto segue, quindi la lunghezza della pista non oltre i 2000 metri, la monodirezionalità, il no alla pista di rullaggio e poi importanti opere strutturali di riassestamento del territorio, di mitigazione, alcune fra le più importanti l'adeguamento allo svincolo autostradale di Sesto, l'adeguamento dell'A1, gli interventi volte al recupero del volume di esondazione, sottratti ai terreni interessati dalla qualificazione aeroportuare, l'esproprio delle compensazioni idrauliche del polo scientifico di Sesto, l'acquisizione e tutta una serie di alcuni esempi di lavori. Ma non solo da dimenticare le previsioni nel PIT sia della VIS, che è propedeutica al parere che la Giunta dovrà esprimere in sede di via ministeriale, sia del dibattito pubblico, che anch'esso è propedeutico alla via. Allora, 26 luglio 2014, la 25 novembre 2015. Oggi ci troviamo a discutere un progetto che prevede lunghezza 2.400 metri, la monodirezionalità da valutare sulla base di criteri di sicurezza, le opere di mitigazione ve ne hanno realizzate dopo l'entrata in funzione della pista e, visti i costi, risulta davvero difficile credere che tutti gli oneri saranno a carico della società che gestisce entrambi gli scali aeroportuali. Non è stata fatta la VIS, non è stato fatto il processo partecipativo su un modello di dibattito pubblico. Allora, leggendo gli atti passati, c'era molto accaloramento su questa approvazione e anche lei, signor Presidente, per chi seguiva le vicende, tutti si ricorderanno l'affermazione, o si vota il PIT e il potenziamento di Peretola o si va tutti a casa. Ecco, da quel tempo sembra passato un secolo, invece è passato giusto un anno. Quindi c'è una sorta di trasformazione, un cambio radicale che è veramente allucinante, si passa da un berlinguerianismo a un renzismo, da PIRDI a Forza Italia al Partito Unico. Cioè, non dimentichiamo che il nostro assessore, le parole del nostro assessore sul nuovo progetto di Enac da 2400 metri, ha usato parole che sono le stesse che usava Forza Italia al tempo. Io chiedo a Mugnai, non c'è, però chiedo a Mugnai di testimoniarlo, perché Forza Italia ha proposto un emendamento che prevedeva, alla luce della lettera di Enac, che Enac inviò in sede di discussione e dell'osservazione della Commissione Sesta e Settima, di sostituire 2000 con 2400 metri. Chiaramente questo venne bocciato. Ah, poi c'è anche da notare che il rappresentante di Enac, invitato in Commissione, non si presentò. E la voce di Enac passò solo attraverso i canali di Forza Italia. Io voglio fare una riflessione, voglio sottolineare altri due aspetti. La partecipazione, per noi del Movimento 5 Stelle, è una questione di primaria importanza. Il dibattito pubblico in Francia, istituzionalizzato come formalmente ha fatto anche la Regione, ha permesso a un terzo delle grandi opere di non essere fatte, di essere cancellate, un terzo delle grandi opere di essere modificate e al fine un terzo delle grandi opere di essere realizzate così come proposte dal proponente. La conseguenza è stata che i costi delle opere pubbliche non sono aumentati, Le procedure autorizzative non hanno incontrato ricorsi sul loro cammino. Le opere sono state realizzate, condivise in tutto e in parte con i cittadini, nei tempi previsti. La Toscana, certo, si è data una legge di partecipazione, ma che però non viene applicata. La norma specifica è che il dibattito pubblico è obbligatorio per le opere di interesse pubblico, il cui importo supera i 50 milioni di euro. Il PIT lo prevede il dibattito pubblico come elemento strutturale per il parere che la Regione dovrà esprimere sul progetto di ENAC. Ebbene, se non viene fatto per un progetto come quello di cui stiamo parlando, ma quando lo facciamo questo dibattito pubblico? Qualcuno, si è già detto, ha avuto incontro di comunicare con anche Nicolai in televisione, dice, si potrebbe dire che non ci sono i tempi. Non ci sono i tempi per il dibattito pubblico, Nicolai? Dopo 50 anni che si parla di questo aeroporto, è stato discusso sì, ma nelle sedi di partito, è stato discusso dai politici questo progetto, ma non dai cittadini. Ora, la cosa assurda è che non ci sono i tempi, tre mesi, chiediamo tre mesi per fare il dibattito pubblico, ci sono i soldi? Pare che ci siano i soldi, chiedo se ci sono i soldi, pare che ci siano trovati questi soldi per fare questo benedetto dibattito pubblico. Allora, il nucleo di via, nel parere 106 e nel parere 110, non ha lasciato dubbi. Il progetto presentato da ENAC si caratterizza per gravi problemi in termini di aspetti progettuali, ambientali, che riguardano l'atmosfera, il reticolo idrico, i rumori, il sottosuolo. Tutto una tutela del paesaggio, la difesa dei beni culturali e di una grave incidenza sanitaria. Mi verrebbe da dire chi più ne ha, più ne metta. Per concludere tutto, voglio solo sottolineare che la partecipazione è il cuore della politica. Senza il confronto con i cittadini, la politica è autoreferenziale. Non solo, no, si rischia di diventare autoritari, perché la modifica, la legge 90, che è andata a modificare le dirigenze, a cui ci la distanza tra i cittadini e la dirigenza. Per concludere, voglio solo dire che tutto questo è indispensabile non solo stracciare il progetto di ENAC, è indispensabile rispettare il PIT, è indispensabile fare il dibattito pubblico. E occorre fare soprattutto il punto su tutta l'area, il punto su tutta l'area, che come sapete è caratterizzata dalla presenza di un termovalorizzatore che a dicembre pare che entrerà in funzione. Le terze corsie per la 1, le terze corsie per la 11, la riqualificazione dello scalo, occorre ripartire dalla VIS, secondo noi. Facciamo subito la VIS, vediamo com'è veramente sul piano della salubrità dell'aria, delle acque, della sostenibilità dei rumori, la situazione socio-sanitaria dell'area, per poi capire bene come ci si può muovere in quell'area, sulla base delle criticità che ci sono. Noi ribadiamo comunque la nostra posizione. Per Etola necessita di un piccolo intervento che possa renderlo in modo efficiente un city airport. Aggiungiamo anche che per noi devono essere i privati a pagare l'opera, o meglio la società che gestisce lo scalo. Non condividiamo l'aiuto pubblico in questo caso. E infine vogliamo che sia garantita la massima partecipazione dei cittadini, senza se e senza ma. Questa deve essere la priorità. Grazie. Grazie, no, 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 no.